È una gara che volevate vincere per i tre punti per la classifica, però alla fine, per come si era messa, io immagino che un pareggio acchiappato così in pieno recupero sia comunque da festeggiare o no? È evidente che per noi proviamo, volevamo vincerla, è evidente le difficoltà, c'è un avversario, sicuramente non siamo partiti bene, siamo partiti benino e poi abbiamo subito questo 1-2 che ha tolto tutte le certezze in questo momento di percorso. È evidente che per una squadra come noi avere da tre settimane 11 assenti per il lavoro quotidiano, e devo su questo ringraziare un giocatore come Grassi che nell'emergenza si è dato la disponibilità facendo una grande partita in un ruolo mai provato e credo ha fatto 20 minuti ieri. È evidente che le difficoltà di conoscenza, di reparto, di collegamento diventa molto difficile per noi. Ci vuole un po' di pazienza, so che non è facile, il punto comunque ha mosso la classifica, però sono convinto che questa squadra nella totalità, quando lavorerà con continuità di allenamenti di gruppo, crescerà. È una rosa nella totalità per me ottima, con tanti giocatori bravi, e quindi c'è bisogno solo di poter lavorare. Ad oggi non abbiamo mai lavorato un giorno con la rosa al completo, quindi le difficoltà sono evidenti. E in effetti quando abbiamo visto Grassi basso a destra, lui che gioca a centrocampo, anche nella spalla l'abbiamo sempre visto a centrocampo, abbiamo capito che c'era un problema. Allora chiedo, oltre agli infortuni in questo momento c'è anche il problema del Covid, per cui può capitare ad una squadra di trovarsi veramente in difficoltà? Questa settimana è capitato a voi, può capitare a tutti, ma questa settimana è capitata a voi. Ormai si fanno più tamponi che allenamenti. Purtroppo è così, ci dobbiamo attenere, è vero che vale per tutti. Probabilmente a noi la drammaticità del periodo e del tutti insieme, anche nello stesso reparto, purtroppo è capitato ad oggi. Quindi speriamo di poterlo superare presto, perché ad oggi avevamo sette giocatori soltanto di Covid, più giocatori arrivati infortunati, come Busi e come Miala, e quindi si vanno a sommare ai sette. Anche oggi, con l'Aurini ieri nella rifinitura, abbiamo toccato quota 11. Io credo che per il Parma 11 indisponibili, comunque qualche difficoltà la creano. Al di là degli infortuni, ti chiedo, se c'è qualcosa di buono che vedi, su cui costruire, che già vedi, e che cos'è invece più in generale che ancora non va? Ad oggi mi tengo molto lo spirito di questo gruppo. Non avevo dubbio, è uno spirito di un gruppo che non molla mai, che ci crede, che lotta fino alla fine. Oggi sicuramente non di qualità, però è una squadra che ha tenuto fisicamente, ha portato i giocatori in area avversaria fino al 95esimo. È vero che loro hanno preso questi tre pali, è vero anche che noi abbiamo avuto delle occasioni, anche noi, penso le due di Caramò, Cucca e Gagliolo. Quindi è stata una partita, diciamo, un po' troppo aperta. Però il pareggio credo sia un risultato giusto per la partita. Sicuramente noi lo abbiamo raggiunto più con il cuore che con la qualità. Però mi tengo questo spirito e quando si lavora con uno spirito così sicuramente è più facile arrivare all'obiettivo. Grazie, buca lupo.